buongiorno siamo con il professore Giuseppe Cirino presidente della società italiana di farmacologia e professore ordinario di farmacologia presso l'università di Napoli Federico II qui do il mio benvenuto salve buonasera a lei dottor Cirino lei guiderà il nuovo consiglio direttivo della SIF per il biennio duemilaventidue ventiquattro quali sono gli obiettivi che si prefigge per il suo mandato allora diciamo che il il mandato è in continuità con eh chi mi ha preceduto e e speriamo che poi quello che faremo noi continuerà e avrà successo con il presidente eletto il professor Salvatore Puzzo Crea eh in realtà la struttura proprio della società italiana di farmacologia che prevede un presidente eletto un presidente in carica e un fast president è proprio costruita per dare continuità all'azione cosa io voglio fare diciamo uno dei miei ehm primi obiettivi è aumentare l'internazionalizzazione la visual la visibilità della società italiana di farmacologia a livello europeo e a livello globale diciamo nel campo della farmacologia quindi questo è importante perché la società scientifica è anche un vettore per i nostri giovani soci e deve quindi creare opportunità per loro di espandersi nel mondo della ricerca e deve funzionare la società italiana di farmacologia da facilitatore di queste interazioni quindi diciamo come programma abbiamo una serie di attività alcune le implementeremo eh a breve diciamo noi faremo di nuovo questa eh diciamo giornate dedicate ai giovani che si SIF giovani che ehm dedicata a tutti i nostri giovani under trentotto una una mini conferenza che diciamo faremo nel mese di ottobre e praticamente in questa mini conferenza comincerò questa diciamo ehm opera di internazionalizzazione cercando di fare questa ehm riunione in joint venture con più società scientifiche europee eh anche perché un'altra veste che ricopro che sono tesoriere dell'associazione di tutte quante le società di farmacologia europee vorrei promuovere una joint venture in modo che vengano dalla Spagna piuttosto che dalla Francia dell'Indierterra Portogallo Slovenia Slovacchia Norvegia Finlandia che li potrei nominare tutti quanti i 26 gli stati ehm cercando di far venire una o due persone meritevoli eh in modo da rendere un po' più internazionale il parterre eh eh fare in modo che i ragazzi possano esercitare la la lingua e la capacità di presentare in lingua inglese perché nel nostro campo non si scrive una parola se non inglese eh ed essere capaci come dire di interloquire diciamo in un environment protetto cioè non è una grande conferenza è una conferenza di giovani possono interagire sperando che non solo crescano come capacità diciamo eh di presentare i propri dati ma anche possa essere un'occasione per per loro di aprire relazioni internazionali con altri gruppi di ricerca più o meno importanti che vedo in entrambe le direzioni sicuramente Slovenia Slovacchia piuttosto che altri piccoli stati sono più deboli e quindi noi qui possiamo aiutarli Turchia eh a volte anche la Polonia possono essere aiutati e altri stati con cui siamo alla pari o sono un po' più bravi di noi stabilire delle collaborazioni di crescita quindi la mia idea è di essere come dire un volano in entrambe le direzioni eh perché penso che questa sia la cosa più importante come ho detto quando mi sono insediato io ho detto voglio paragrafare una frase famosa dice io questa società non la eredito da chi mi ha preceduto ma la prendo in prestito dai giovani dai soci da quelli che saranno il futuro e quindi voglio restituire a loro qualcosa che sia come dire più agile e più veloce verso quelle che sono come dire le necessarie interazioni per poter andare avanti eh continueremo anche nelle nostre diciamo attività che ci caratterizzano tipo il forum farmac è dedicato avere interazione con il mondo del farmaco che è farmindustria ai farsi superiore di sanità e anche questo diciamo è previsto nel ventitré oltre a questi mono una serie di monotematici che abbiamo eh che ho fatto ripartire che diciamo danno spazio a questi che sono i gruppi di lavoro della SIF che sarebbero delle aree tematiche per fare un esempio il cardiovascolare piuttosto che le neuroscienze per creare dei piccoli simposi dove questi gruppi di interesse eh diciamo a stavolta a livello nazionale si possono incontrare questo diciamo è la parte a cui io più ci tengo che quella dell'internazionalizzazione inoltre diciamo vorrei cercare di inserire ehm una facilitazione per i giovani eh di fare quelli si chiamano small exchange visit che sono una cosa molto internazionale però io la voglio fare in campo italiano perché può capitare che una persona che qui a Napoli debba usare un apparecchio che è disponibile a Milano o a Novara o a Firenze facciamo un esempio un microscopio o two photon microscopi costa una cifra astronomica deve fare un esperimento allora io vorrei fare come dire dare la possibilità a queste persone con un piccolo finanziamento che faremo a bando di potersi muovere e andare a fare questo tipo di sperimentazione con l'aiuto della SIF quindi rientra in questo concetto che le ho detto di ehm facilitatore e promotore dell'attività scientifica ovviamente noi facciamo anche formazione altro poi come dire diciamo io potrei parlare molto a lungo ma preferisco passare a lei la parola se mi vuole fare qualche domanda specifica. Sì infatti mh appunto anche dalle sue parole colgo anche come la farmacologia stia vivendo un periodo di grande trasformazione ehm in questo contesto le risorse provenienti dal PNRR saranno importanti per la professione negli anni a venire sia per quanto riconcerne ad esempio la missione quattro per l'università e la ricerca che per la missione sei quindi mh secondo lei in che modo poi queste risorse potranno incidere per la figura del farmacologo per la vostra società? Sicuramente queste missioni sono importanti perché praticamente danno la possibilità di utilizzare fondi che poi possono essere utilizzati per comprare non so attrezzature molto importanti creare dei eh come dire pipeline di ricerca particolare quindi come dire io lo vedo importante perché è un'occasione eh dove sarà riversato molto denaro ma anche per migliorare come dire attrezzature anche strutture creare delle strutture di raccordo un po' particolari e ma è una grande opportunità eh se sfruttata bene coordinata bene perché ovviamente questo diciamo queste missioni ehm hanno anche come dire lo scopo di eh dare la possibilità a giovani eh di essere come dire eh non diciamo reclutati ma essere come dire presi in carico come ricercatori di tipo RTDA e perseguire queste attività quindi diciamo ritorniamo alla politica dei giovani eh che eh non è che diciamo che come dico io chi è vecchio non non conta diciamo le persone che sono anziane hanno grande esperienza ma forse come paragrafo una persona perdono un po' l'entusiasmo le persone che sono più giovani hanno un grande entusiasmo a volte mancano di esperienza il grande connubio che potrebbe far camminare il mondo è quella di esperienza e entusiasmo dove uno tempera l'altro e secondo me diciamo mh questo environment eh diciamo che si dovrebbe creare con i giovani e e e tutti questi fondi e e queste nuove strutture e posizioni anche denaro per fare ricerca dovrebbe portare proprio avanti il sistema paese per quanto riguarda i farmaci perché lei quando parla della società italiana di farmacologia parla di una cosa di grande interesse che è la necessità il bisogno di salute di nuovi farmaci che vanno verso la medicina personalizzata per esempio grandi fondi sono stati messi per studiare eh come modulare l'RNA messaggero questi salencing RNA che sono farmaci nemmeno più futuribili ce ne sono già in commeccio per terapie per come dire terapie malattie rare ma mo diciamo adesso stanno virando per esempio anche come farmaci per il trattamento del colesterolo resistente a tutte le altre ehm trattamenti quindi diciamo è un discorso apparentemente eh complesso ma a secondo il mio modesto parere eh riassumibile in maniera semplice come un'opportunità per creare competenze non solo ma anche per evidenziare talenti eh persone che magari potranno usare tutto questo come anche trampolino di lancio ma grazie sempre però se vuole la mia opinione in maniera sommessa eh tenendo conto di questo connubio diciamo di esperienza e entusiasmo perché chi è chi ha entusiasmo a volte può commettere errori e magari chi ha esperienza gli può dire guarda ti incanalo questo tuo entusiasmo in questa maniera ma attenzione e gli fa notare queste cose allora secondo me aver scelto le università eh come diciamo destinatari degli hub secondo me ha voluto chi il legislatore chi per esso che l'ha pensato sfruttare appunto l'università perché è un posto che teoricamente non dovrebbe mai guardare indietro ma solo avanti perché come dico io diciamo se una persona si iscrive oggi a medicina e siamo nel 2022 eh lui diventerà medico nel 2028 e specialista nel 2032 ora l'università dovrebbe come dire preparare insegnare formare e dare informazioni in maniera prospettica non retrospettiva e quindi sa queste cose che avvengono che sono cultura e in cui deve operare anche la società italiana di farmacologia devono andare come dire secondo me in questa direzione perciò questo mio eh particolare interesse prospettico perché io quando parlo di giovani parlo in maniera prospettica ma non elimino la necessità di avere persone che poi possano quindi aiutare quindi ritorniamo sempre diciamo a quello che poi la mia visione che volevo cerco di cercherò di portare avanti così come l'ho portato avanti nel mio nel mio piccolo qui in Federico Secondo nei miei laboratori la vorrei portare avanti diciamo con lo spirito di quella frase che le ho detto prima. La ringrazio davvero dottor Cirino per le sue riflessioni per la chiarezza del dei suoi contributi grazie. Grazie a lei buona serata. Buona serata.